Papà, vieni a giocare con me? No Paolo, adesso non posso, devo finire questo lavoro. Amore, sono sicura che papà giocherà la settimana prossima con te. Se papà non lavora, non guadagna. Il lavoro di papà è così importante che le persone gli danno dei soldi per farlo. E questi? Potrò comprare un po' del tuo tempo? No, per te è gratis. Davvero? Sì, andiamo a giocare. Ho vinto! E questi? Per domani.